Un progetto di Sefai che diventa anche DeFi Allora Crypto.com nella giornata dell'11 di settembre lancia il suo progetto DeFi da accostare a quest'ecosistema che sta creando di cui abbiamo anche parlato tanto, soprattutto relativamente alla carta Crypto.com che è la carta che sto utilizzando ragazzi da mesi e anche ai vari servizi che ha implementato nella sua applicazione quindi accosta in pratica un altro servizio a quest'ecosistema che sta andando a creare che è un servizio di DeFi ragazzi su una piattaforma quella di Crypto.com che è una piattaforma Sefai vabbè con tutti questi parole, tutte queste sigle in realtà significano poi ben poco ragazzi quello che serve immaginare è questa cosa c'è un altro sistema che può dare la possibilità di fare profitto di fare un po' di Yield Farming sarebbe in questo caso quindi proprio il famoso farming anche sulla piattaforma di Crypto.com oggi andiamo a capire che cos'è il Crypto.com DeFi Swap quali sono i benefici che può portare, come si procede alla sottoscrizione di questo servizio chiamiamolo così, di Yield Farming e poi la terza, la chicca qual è la strategia migliore da utilizzare per questo tipo di servizio che ottimizza il rendimento di questo Yield Farming ma prima di andare a trattare tutti questi punti ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto lasciandomi anche un mi piace per questi video di aggiornamento che penso possono essere estremamente utili per la community e fatemi sapere nei commenti se avete già dato spazio a questo servizio avete già qualche notizia e soprattutto cosa intendete fare quello che sono i livelli di Yield, quindi di profitto che si possono creare attraverso la DeFi Swap quindi l'attività che poi in altro non è ragazzi che è una pullo di swap come quella di Uniswap, insomma la stessa cosa perché è un fork però insomma mettendo liquidità su questa pullo quindi prestando noi le nostre coin che restano comunque sul nostro wallet quindi è proprio una DeFi perfetta prestando le nostre coin come liquidità otteniamo un Yield triplo in questo caso ragazzi viene indicato come triplo perché c'è una parte che viene data relativamente alle FII quindi lo sharing delle FII per quanto riguarda la liquidity pool che va a darci in pratica lo 0,3% del volume di trading ovviamente ragazzi questa sharing delle FII non è estremamente rilevante perché? perché queste pullo ancora sono in fase di start up quindi la liquidity pool in generale non fa tanti scambi la seconda che invece è quella che spinge a Crypto.com perché senza questa ragazzi la CRO DeFi Yield questo meccanismo non funzionerebbe in quanto nessuno presterebbe in pratica questa liquidità quindi il più importante, la più importante forma di reward di queste tre che stiamo analizzando è questa qui ragazzi, cioè un boost dato da uno stake di CRO noi lasciamo uno stake di CRO che vedremo alla fine del video ragazzi essere fino a 4 anni, avete sentito bene 4 anni ma vi spiego perfettamente quello che significa questo stake quindi non abbiate paura perché non è una cosa importantissima in termini economici quindi la guarderemo tra poco però con uno stake di CRO c'è un boost fino a 20 per ovviamente 20 per ragazzi sono mi pare in stake 50 milioni di CRO quindi cosa è senza senso però ragazzi c'è questo stake che poi è quello che ci fa fare il nostro yield quindi su cui andremo a fare i calcoli questo ragazzi invece è la terza forma di rendimento il bonus sulle liquidity pool che sarà sviluppato nelle prossime settimane perché questo bonus verrà dato con l'aggiunta delle nuove coin perciò non abbiamo informazioni relativamente a questo tipo di bonus attualmente quindi attualmente non sappiamo quanto sarà non possiamo calcolarlo però possiamo fare affidamento su quella che è la popolarità di Crypto.com nel utilizzare spesso i suoi servizi con il CRO in questo momento e tentare quasi sempre ragazzi di sostenere questa coin ok poi allora andiamo a capire quindi questo che è l'incentivo principale come si calcola ragazzi allora c'è un'altra struttura un'altra pagina che vi lascio comunque tutto in descrizione qui c'è una tabella che relativamente allo staking vi dice un moltiplicatore lo state dei CRO sulla liquidity pool vi dà la possibilità di moltiplicare il vostro profitto questo rendimento viene calcolato in base a queste formule l'idea generale qual è? più contribuite in termini di liquidità che prestate alla pool più contribuite in termini di liquidità totale quindi non è neanche calcolata sulla singola coppia ma è calcolata sul totale della liquidità e più CRO vi vengono riconosciuti ragazzi per 14 giorni ci sono un milione di CRO che vengono garantiti quindi 14 milioni in totale che vengono dati a chi garantisce la liquidità a chi presta le proprie coin per creare la pool di liquidità e poi questa somma ragazzi viene moltiplicata vedete per il moltiplicatore che ottenete grazie allo stake di CRO in questo caso lo vedremo alla fine del video cosa converrà a fare le due variabili che dovete tenere a mente in questo momento per il calcolo di questo rendimento di questo bonus sono la totale liquidità in dollari valuta standard che prestate alla pool il calcolo è sempre base USD sul totale della pool quindi man mano che la pool viene riempita di liquidità la nostra percentuale di partecipazione si riduce e di conseguenza si ridurrà anche il nostro yield il nostro reward e poi la seconda variabile ragazzi è il moltiplicatore quindi voi immaginate una prima variabile che è il mio tasso di partecipazione alla pool per il moltiplicatore che ottengo dallo stake ma lo vedremo tra poco ok ora andiamo a capire come si fa quindi un brevissimo tutorial di come entrare in questo meccanismo ragazzi vi faccio un tutorial breve intanto vi dico che il wallet di Coinbase non funziona su la liquidity pool di Crypto.com quindi ancora non è stato inserito quindi il wallet che vi consiglio più semplice da utilizzare è Metamask ma funziona Argent se non sbaglio quindi se avete anche Argent come wallet va bene lo stesso io ho utilizzato il wallet di Metamask per fare questo tipo di operazioni l'ho fatto dal mio iPhone e dal mio iPad e ho trovato alcune difficoltà ho fatto anche un errore che vi farò vedere relativamente allo stake che non è un errore mio ma semplicemente la piattaforma non mi restituiva il segnale corretto quindi vi consiglio di fare questo tipo di operatività dal pc ragazzi utilizzando il wallet di Metamask però fate tutto da pc basta andare su questo link che è il link che ci fa entrare vedete nella DeFi Swap e collegare il nostro wallet fare la prima cosa di andare a fare è andare qui in boost ragazzi e premere su stake qui dovete fare lo stake dei CRO ragazzi fino a 4 anni quindi potete scegliere da 1 a 4 anni adesso vedremo tra un poco cosa significa fatto questo meccanismo ragazzi andate semplicemente a riempire la pool quindi fate add liquidity e inserite i token che avete però già messo in Metamask quindi su Metamask dovete prima avere le coin che volete prestare alla pool sono poche le coin scusate che possono essere prestate ragazzi quindi sono ETH CRO Comp dai link USDC USDT e VTH che insomma è quello che si usa in alternativa ad ETH stesso ovviamente dovete pagare le fee e il gas per Ethereum quindi sapete che in questo momento il gas di Ethereum è terribile però io l'ho fatto nel weekend e ho pagato veramente pochissimo intorno ai 10 dollari andiamo alla terza fase di questo video le strategie da utilizzare per massimizzare i rendimenti relativamente al progetto DeFi Swap di Crypto.com le due componenti vi ricordate ve l'avevo accennato prima che dobbiamo tenere in considerazione le due variabili per calcolare i nostri rendimenti sono la totale liquidità che prestiamo alla pool di Crypto.com che è una pool DeFi ragazzi quindi non gli diamo veramente le coin le coin sono sempre nostre ricordate ve le potete togliere in qualsiasi momento e poi l'altro è il moltiplicatore con lo stake allora la liquidità deve essere alta ve lo dico già da subito quindi la liquidità prestata alla pool per massimizzare il vostro rendimento deve essere la più alta possibile in base alla vostra disponibilità per un investimento di questo tipo che vi ricordo non sono consigli finanziari ragazzi anzi vi dico anche un'altra cosa adesso ve la faccio vedere dovete sempre ragazzi considerare i rischi che sono qui ragazzi i rischi sono tutti scritti in questa pagina vi faccio vedere guardate qui tutti quelli relativi alle frodi a la luck agli errori del codice per esempio oppure perdete le chiavi del vostro wallet metamask insomma ragazzi ci sono una serie di rischi anche la volatilità dovete considerarli sempre quando fate questi investimenti per quanto riguarda lo stake ragazzi non è necessario avere uno stake elevato dei cro e vi faccio vedere vediamo vi ingrandisco anche questa tabella per farvi capire una cosa non c'è bisogno di fare uno stake alto del numero dei cro quindi non dovete arrivare ad avere 10.000 cro di stake per avere un buon moltiplicatore ragazzi quello che vi basta sono mille però dovete allungare il tempo ragazzi quindi il years staked al massimo possibile quindi dateli per persi facciamo così allora io do 1000 cro in stake per 4 anni ottengo il 2 per al moltiplicatore di questo discorso 2 per ragazzi che ci consente tecnicamente di recuperare questi 1000 cro in una decina di giorni più o meno almeno gli attuali tassi 10-15 giorni quindi voi alla fine dei 14 giorni di crypto.com tecnicamente arriviamo a riavere i nostri 1000 cro che però ragazzi vedremo tra un po' saranno bloccati per 90 giorni punto preciso di questa matrice che massimizza la strategia è 1000 cro in stake per 4 anni poi è chiaro ragazzi se siete multimiliardari e ne avete 100.000 l'altro frangente è esattamente 100.000 ragazzi poi è un milione per 4 anni vabbè allora se potete mettere in stake 100.000 cro mettete in stake per 4 anni ma comunque li recuperate in ogni caso anche molto velocemente ragazzi però è anche vero che abbiamo un notevole rischio su questa operazione l'altra variabile ragazzi è decidere le coin da prestare se voi avete per esempio queste coin e le volete prestare quelle che abbiamo già visto qui per esempio le avete già e le volete mettere in liquidità allora non c'è problema ma se le dobbiamo decidere queste coin ragazzi quale scegliamo e dipende anche in base alla valuta di partenza quindi se voi avete usd e partite da usdt per esempio e volete prestare queste coin vi dico prestate usdt perché ragazzi perché si può fare tranquillamente mettete usdt e dai oppure usdc vedete li mettete con tranquillità diciamo io ipotizzo insomma 10.000 usdt e insomma funziona alla perfezione avete prestato anche con usdt se invece avete bitcoin per esempio e non potete prestare bitcoin come ho fatto io bisogna scegliere una di queste altcoin possiamo sempre scegliere usd ma se volete scegliere anche le altre altcoin andiamo a guardarne il grafico allora fate così prendete il grafico ragazzi di delle vostre coin di quelle che sono qui indicate quindi che sono le uniche sono eth cro e comp e poi link prendetevi il grafico contro bitcoin e andate a vedere il trend se il trend è un trend rialzista contro bitcoin nel breve periodo potete anche dire ok io utilizzo quella altcoin e quindi scambiate i vostri bitcoin con quella altcoin e basta ragazzi e poi la prestate quindi questo è il modo corretto di andare a decidere quale altcoin andare a mettere quindi se avete usdt lascia usdt se invece avete bitcoin e volete metterli qui dentro dovete andare a prendere a comprarvi altcoin migliori contro bitcoin e per fare questo ragazzi dovete guardare il grafico in questo momento è quello che ho fatto io le altcoin migliori secondo me contro bitcoin in questo momento da poter scambiare sulla liquidity pool di crypto.com sono cro e th cro ragazzi si lo so ok c'è l'esposizione troppo rischio però ricordatevi che questa parte della liquidity può essere tolta ogni giorno quando volete cioè non c'è un problema relativamente a queste coin quindi potete tranquillamente toglierle andiamo al calcolo totale e nella tabella annual percent yield percent yield che è qui ragazzi andiamo a calcolarci il mio rendimento allora intanto vi faccio vedere una cosa che vi avevo accettato prima giusto scherzo lo stake dei miei cro è 2000 ragazzi proprio perché il primo lotto da 1000 non mi veniva indicato sul telefonino sull'iphone e quindi ragazzi pensavo non fosse andato a buon fine ho rifatto lo stake e quindi purtroppo ho stegato 2000 cro inutilmente per 4 anni quindi posso dire addio ai miei cro in questione quindi io per recuperare ragazzi necessito di 20 giorni quindi dovrò aspettare di più almeno rispetto agli altri quindi non fate questo errore fatelo sul computer allora andiamo a calcolarci allora io ho messo in stake 1000 cro ragazzi anche se mettete 2000 non cambia niente quindi tra 1000 e 5000 non c'è differenza quindi lasciate 1000 dopodiché ipotizzo di prestare 10.000 dollari alla mia alla pool in questione di crypto.com e vedete che qui c'è la forecast api che è esattamente il rendimento in questo momento che voi ottenete ad un anno dei cro che vi vengono dati se tutto rimane così come quindi è assolutamente è completamente falso perché quello che vedete qui ragazzi è una immagine uno snapshot solo e unicamente dell'attuale momento non lo è per niente nel futuro questa cambierà ragazzi e scenderà praticamente sempre a meno di problemi di oscillazione relativamente alla liquidità quindi pensare di ottenere questo tipo di profitto con questa attività per un anno è sbagliato però ragazzi abbiamo un'idea generale di quello che potrebbe essere nei prossimi giorni soprattutto se lo fate inizialmente poi magari nei prossimi giorni questa scende ma non scende tantissimo per esempio vi faccio il mio esempio quando ho iniziato io era 130 e qualcosa 140 e qualcosa all'inizio proprio chi si è inserito inizialmente era 800 ora ragazzi non vi fissate su questa percentuale perché cambia di continuo e cambiano di continuo anche i vostri yield quindi i vostri reward perché non sono fissati quindi non è che voi fissate questo tasso di ritorno ma semplicemente è un'indicazione generale quando andate a fare il prestito della liquidità e vi fa capire quanto CRO vi ritornano dopo un anno qual è l'altro vincolo che dobbiamo considerare abbiamo chiuso questo video stralungo ragazzi è un vincolo relativamente al fatto che questi CRO vi vengono dati è vero che vi vengono dati ma sono mantenuti in bloccati per 90 giorni dovrebbero metterli qui quindi vi dicono quali sono quanti sono ma ve li potete prendere solo dopo tre mesi ragazzi ok quindi attenzione fate bene i calcoli anche sul prezzo di CRO che deve mantenersi stabile anche nei confronti di bitcoin per esempio allora qual è il problema è perché io non ce li ho perché diciamo stiamo avendo dei problemini relativamente a questo valore che non viene indicato quindi è già stata l'assistenza è già stata contattata per queste cose alcuni utenti tra me compreso non riusciamo a vedere il CRO del giorno però non li abbiamo persi chiaramente sono semplicemente non vengono mostrati ci sarà qualche problema in piattaforma che staranno per risolvere questo vi fa capire anche che siamo agli albori all'inizio di questo tipo di servizio e che quindi dobbiamo anche tenere conto di questa cosa bene ragazzi per oggi è tutto noi ci vediamo nel prossimo video fatemi sapere quello che pensate ciao